Buongiorno a tutti, sono Emilia Frattaroli, siamo ancora al Roma i Fidelity, oggi è domenica, 28 novembre e sta per finire la prima parte della giornata della Kermess che è tornata a Roma dopo due anni e sono in compagnia di Roberto Pedrazzini. Buongiorno a te Emilia. Roberto Pedrazzini che qui rappresenta tre aziende, un distributore con tre aziende che è Marans Italy, con tantissimi prodotti, adesso vedremo, Greensound e Hi-Fi United. Esatto. Ma non solo? Ma non solo. E all'interno di, sono quattro aziende perché c'è anche Hi-Fi United e c'è anche il gruppo OnVision. Esatto, noi abbiamo... Ci puoi spiegare un po' come funziona questa galassia di... Assolutamente, noi abbiamo come tu hai nominato tre società che si occupano di importare e distribuire dei prodotti e poi esiste una quarta società che si chiama OnVision e che è una società formata da un gruppo di rivenditori che si sono associati moltissimi anni fa all'interno di questa organizzazione e che si comportano come una struttura che esercita la propria attività esattamente come un rivenditore tradizionale ma che appartenendo al gruppo OnVision appartiene a una società che fa anche della sua funzione principale un gruppo di acquisto. Questo gruppo di acquisto interagisce con le tre società di importazione, tutte e tre, per cui Marans Italy, Hi-Fi United e Greensound e all'interno dei punti vendita noi possiamo trovare tutti i marchi distribuiti da queste tre aziende. Le due aziende principali, Marans Italy e Greensound, oltre che operare per il gruppo OnVision operano anche nel mercato del rivenditore tradizionale e di conseguenza nella distribuzione più allargata. Ok, tutto chiaro? Quindi c'è una parte associativa con dei rivenditori che fanno parte del gruppo che hanno dei marchi in esclusiva? Che hanno alcuni marchi in esclusiva che sono i marchi che sono all'interno della società Hi-Fi United e poi ci sono invece i marchi tipo di Marans Italy che sono distribuiti in tutti i canali distributivi. Parliamo di Denon, Marans, cioè non sono Marans, Denon, Marans... All'interno di Marans Italy noi oggi abbiamo Marans, Denon, Polk Audio, Definitive Technology e Classe Audio. All'interno di Greensound, per citarne alcuni, abbiamo Name, abbiamo Focal, abbiamo Rega, abbiamo Q Acoustics, abbiamo Cambridge. Per cui diciamo più il mondo anglosassone all'interno di questa società. Mentre in Hi-Fi United che invece è ad uso esclusivo del gruppo On Vision ci sono marchi come Arbet, come Nordost, come Totem, come Parasound. Alcuni prodotti che sono esclusivi del network dei rivenditori On Vision che al momento in Italia consta in 48 punti vendita. E qui siete presenti al Roma i Fidelity non come distributore, bensì come in partnership con tre rivenditori romani. Esatto, abbiamo scelto quest'anno di non partecipare direttamente alle manifestazioni per la situazione e per la complessità da parte nostra nel svolgere direttamente questa attività, ma abbiamo supportato tre nostri punti vendita On Vision sulla piazza romana, che sono Centro Musicale, che sono Garman Grecia e Hi-Fi D'Agostini, i quali sono presenti con delle loro spazi, delle loro sale all'interno della manifestazione e sui quali noi abbiamo dato supporto, sia in termini di fornitura di prodotti e di alcune novità che magari poi parleremo, che nella mia presenza nel sovraintendere all'organizzazione delle sale, fare il fine tuning dei sistemi e partecipare in maniera attiva a qualche demo. Sì, ho visto. Magari entriamo un po' nel dettaglio, ho visto. Noi collaboriamo con tutti e tre i punti vendita che hai citato, in particolare per esempio io personalmente sono impegnato nelle dimostrazioni nella saletta di Garman, dove oltre alla parte video c'è un integrato Marlans 8015 e soprattutto un sistema multicanale Dolby Atmos in configurazione 5.4.2 Definitive Technology e molto particolare. Esatto, Definitive Technology è un marchio americano nato nel Maryland negli anni 90 e che ha al momento un catalogo di prodotti più votati all'audio due canali e questa linea di prodotto che si chiama BP, che sta per Bipolar, che è composta da una serie di diffusori da pavimento che hanno la caratteristica singolare di avere innanzitutto un'emissione bipolare perché hanno dei driver posti sulla parte posteriore e tutti i diffusori di questa linea sono dotati di un subwoofer attivo integrato nel diffusore. Nella sala di Garman suonano i 90-60 frontalmente e i 90-40 come canali posteriori, a cui si aggiunge in maniera assolutamente integrata il modulo A95, che è questo piccolo canale Dolby Atmos che si integra perfettamente nell'estetica del diffusore, per cui non è il classico diffusore da appoggio, ma proprio si fissa al diffusore, diventa un monolita unico e che consente appunto di utilizzare la funzionalità Dolby Atmos laddove necessaria. Se non bastasse, oltre all'unità subwoofer integrata nei diffusori, avete aggiunto due subwoofer, prodotto nuovo e estremamente interessante, che sono i Definitive Technology Descent DN12. Definitive Technology è famosa nel mondo per la produzione dei suoi subwoofer, erano ormai due anni e mezzo che mancavano dal mercato, sono tornati quest'anno con i primi due modelli della nuova serie, il DN8 e il DN12, il DN8 è un subwoofer con driver da 20 cm, un driver attivo e due driver passivi, dotato di amplificazione digitale da 500 Watt, e il DN12, lo dice la parola stessa, ha un driver attivo da 12 pollici, due passivi da 12 pollici e 1500 Watt di amplificazione, dotati di DSP a 56 bit, per cui con la facilità di poterli integrare facilmente in ambiente, e grazie alla tecnologia del doppio reflex passivo, il subwoofer è compatto da un punto di vista dimensionale, ma molto prestazionale da un punto di vista della capacità di scendere in frequenza e di generare pressione. Poi ci spostiamo invece, c'è anche il centrale, ricordiamoci. E' un canale centrale anch'esso particolare, perché anche questo canale centrale ha un subattivo integrato, per cui tecnicamente abbiamo una sala dove ci sono 5 diffusori principali, tutti dotati di subattivi, e già questo teoricamente basterebbe a sonorizzare la sala, ma proprio perché c'era la novità del DN12, abbiamo anche sui canali LFE una coppia di DN12. Non solo, visto che l'avete utilizzato anche per risolvere i problemi che ci sono sempre nelle sale, quello di giocare, parte con la fase tra i due, con l'equalizzazione, per linearizzare al massimo la risposta anche sulle basse frequenze, in effetti il risultato è pregevole. Poi c'è invece, ci sono le due sale di centro musicale, perché c'è una sala, un theater con un proiettore a tiro cortissimo Isense, e con un sistema Polkao, se non sbaglio. Sì, esatto, anche in quella sala abbiamo sonorizzato quella sala con le nuove Polka Audio Serie Reserve, che è il prodotto che quest'anno ha vinto il premio EISA come miglior sistema di diffusori nella sua categoria, e nella sala col proiettore Isense ci sono una coppia di R100, cioè il diffusore più piccolo di questa gamma, e il subwoofer DN8, pilotati da un integrato Denon, che in questa configurazione funziona in 2.1. E poi c'è la sala sotto, la sala più grande di centro musicale. E poi abbiamo la sala sotto, almeno uno, dove invece abbiamo un'esposizione statica di alcuni dei nostri prodotti, e due sistemi suonanti. Il primo composto dalla copiata Amaranth Serie 30, sia l'integrato che il lettore CD e Super Audio CD, con il network player integrato, e alterniamo una coppia di Legend L800, che sono il diffusore top di gamma della rinnovata gamma di Polka Audio, diffusore molto particolare perché è dotato di tecnologia SDA, che consente di ridurre la diafonia tra i canali, e in questo sistema alterniamo anche il nuovo diffusore Serie Reserve top di gamma, cioè la versione da pavimento, modello R700, che utilizza alcune tecnologie sui driver derivate dalla serie Legend, in una forma più compatta, in un cabinet più standard, e senza la tecnologia SDA. E questo, diciamo, è il primo sistema. Il secondo sistema, anch'esso molto innovativo e interessante, perché presenta l'all-in-one, nuovo all-in-one di Cambridge Audio, l'Evo 150, che è una macchina, come dice la parola, omnicomprensiva, ma molto poco compromissoria da un punto di vista del risultato. È un oggetto, un amplificatore di due canali, dotato di diversi ingressi analogici, di diversi ingressi digitali. E che amplificatore aggiunge? Esatto, dotato di due moduli Encore IPEX, da 150 Watt per canale su 8 Ohm, con capacità di spunti dinamici veramente importanti, con un bellissimo display ad alta risoluzione 7 pollici, perché la macchina ovviamente è anche un client di rete integrato e può fare streaming sia di contenuti locali che di contenuti della rete. Tra i vari ingressi e le varie possibilità di connettività abbiamo ingressi bilanciati audio, abbiamo una porta HDMI eARC, che consente di poterlo integrare anche con l'audio della televisione, come dire, veicolare la parte A. Sì, perché spesso i sistemi, anche due canali, non hanno l'ingresso HDMI, che è veramente incredibile. Sì, alcune soluzioni hanno l'ottico che può essere utilizzato, ma che diciamo perde la funzionalità di poter utilizzare il televisore con il suo telecomando per pilotare il sistema audio separato. Questa funzionalità in questa macchina è integrata e in 32 cm per lato e 8 cm di spessore abbiamo veramente un grande centro di controllo e di riproduzione. Questo nuovo Cambridge Audio è collegato a un nuovo prodotto di Q Acoustic, marchio inglese che distribuiamo da un po' di tempo e che ci dà grandi soddisfazioni. e in questa manifestazione presentiamo l'anteprima europea di due nuovi modelli della serie Concept, la 30 e la 50. La serie 30 è un bookshelf, per cui un diffusore da stand, con un driver da 13 cm e un tweeter da 26 mm, e la sua compagna da pavimento, che si presenta con un fattore di forma molto slanciato e molto compatto, che utilizza una configurazione da polito con due driver da 13 cm e il medesimo tweeter da 26 mm. Poi c'è anche Alessandro D'Agostini, ovvero D'Agostini Eiffi e D'Agostini Labba, che ha una sala condivisa con audio quality nel quale espone staticamente alcune dei nostri prodotti distribuiti dal gruppo OnVision, per cui Focal, Polk Audio, Rega, anche Cambridge, Cambridge, sì, sì, ci sono diversi oggetti esposti in questa sala. Senti Roberto, come è stata la prima giornata, anche questa prima parte della mattinata? Guarda, direi, la giornata di ieri è molto intensa, tante persone, la sala sempre piena, con tutte le accortezze del caso per gestire i corretti distanziamenti, vista la situazione che stiamo ancora vivendo, però direi un bel successo, grande interesse, grande interesse per questi nuovi prodotti che rappresentano un nuovo modo di poter fruire della musica in casa senza necessariamente avere, diciamo, l'impianto Hi-Fi costruito in modo tradizionale con componenti separati. Grande interesse per la soluzione audio-video di Garman, che so che è piaciuta molto, ha avuto veramente grandi riscontri, sia per la parte di proiezione, perché so che adotta un proiettore importante, ma anche per la parte... Sì, ma soprattutto la sorpresa è stata avere il sistema Definitive Technology, perché comunque, alla fine, quando andiamo a vedere il prezzo, la gente rimane positivamente sorpresa per quanto riguarda il prezzo e il rapporto. Ad oggi la filosofia, diciamo, di Sound United, che è l'azienda che raggruppa tutti questi marchi, per cui da Marans a Denon a Polkia Definitive, ha la principale caratteristica di rappresentare un grande valore aggiunto in termini di ottenimento di prestazioni in relazione alla spesa, per cui abbiamo delle soluzioni efficaci, funzionali, a un costo relativamente accettabile. Assolutamente accettabile. Oltre ai tre punti vendita che sono qui a Roma, ripeto, voi siete presenti su tutto il territorio nazionale, con 48 negozi. L'elenco di questi punti vendita è presente sul sito di istituzione, anche quello di... onvision.it, esatto. Grazie Roberto per il tuo tempo e ci aspetta un'altra mezza giornata, ancora intensa, vista la densità del pubblico, e poi ci rivedremo sicuramente a Milano, assolutamente. Milano e Fidelity a marzo, il prossimo marzo. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie a voi.